Sì, 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 vai la gara! Sì, 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 vai la gara! Lascia quel braccio! Forza, perfetto! Forza! Buono, buono, buono! Stab, 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 portalo giù! Stab, stab, portalo giù! Ma cosa devi fare? Eh! 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 I Eh! Sì, così è passato. 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 Sì. Sì, così è passato. Sì, così è passato. Sì. 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 Dessono. Sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.